Il mio sogno è sempre un prigioniero, sono tutte situazioni in cui, è una situazione sempre di prigionia, di carcere e se non è carcere comunque è una situazione in cui sono imprigionato, non posso uscire, sono comunque in una situazione di prigionia continua nel sogno e oltretutto è anche bianco e nero che mi dà fastidio perché invidio quelli che sognano a colori e questo è un problema che mi porto dentro da sempre, quello di non riuscire a liberarmi sia psicologicamente sia energeticamente del passato.